Enrico Di Bernardo Anzi, dare merito al Chivasso che sicuramente ha giocato meglio di noi e ha meritato di vincere, indubbiamente. Ecco, che squadra hai visto in queste prime settimane di lavoro? Che cosa ti aspetti da questi ragazzi? Insomma, come sta procedendo? Beh, io oggettivamente non conoscevo nessuno, quindi in questi cinque allenamenti ho cominciato, ho imparato un po' a conoscerli e mi ci andrà ancora un po' di tempo. Comunque sono tutti ragazzi molto volenterosi e credo che si potranno ottenere buoni risultati. Certo è che bisognerà applicarsi e provare a fare le cose che vengono provate in allenamento. E poi vedremo, comunque io resto ottimista, non è che dopo la vittoria di domenica eravamo tutti particolarmente entusiasti e adesso ci abbattiamo. Noi facciamo il nostro percorso e cercando di creare un buon gioco, dopodiché vedremo i risultati, se devono venire verranno. Alessandro Giraulo, tecnico del Chivasso, primo tempo di sofferenza, oggi a Colleretto, poi è arrivata la vittoria. Nella ripresa siete scesi in campo con un'altra mentalità, con un altro piglio. Sicuramente il campo non aiuta penso neanche il Colleretto, è un campo piccolo, non si può giocare palla. Noi abbiamo partito quello al primo tempo, sul nostro errore sull'esterno abbiamo preso il gol subito, poi abbiamo preso un po' le misure al campo più che altro, al secondo tempo siamo entrati con un'altra testa. Qua era un campo difficile, lo sapevamo, abbiamo giocato da squadra e abbiamo dimostrato di poter portare almeno meditatamente a casa la vittoria. Sì, anche perché nella ripresa si è proprio visto un Chivasso che ha anche espresso gioco, ha fatto profondità, ha usato meglio le fasce, quindi insomma avete dimostrato che i punti che avete sono quelli che forse vi permetteranno di fare un campionato di vertice fino alla fine. Sì, il nostro denaro è quello, noi giochiamo molto palla, oggi al primo tempo abbiamo avuto molte difficoltà perché giocando con la palla a terra, nel campo piccolo comunque eravamo 7-8 giocatori nella metà campo, quindi facevi fatica proprio a far girare il pallone. Al secondo tempo abbiamo sfruttato molto meglio gli esterni, abbiamo fatto girare molto più la palla nella parte alta, nella loro tre quarti, allora lì siamo riusciti a entrare, anche a cospetto della loro difesa che era comunque abbastanza alta, noi siamo riusciti a entrare dentro con dei tagli ottimi e siamo riusciti a portare a casa il risultato.